Allora signori buonasera come sempre benvenuti e bentornati sul canale Omotenasianime e la domanda è chi di voi non ha mai mangiato delle patatine? Beh ognuno di noi nell'arco della nostra vita ne assaggiate di ogni tipo ma sono assolutamente strassicuro che nessuno ha mai assaggiato patatine come queste le patatine del Gundam Aerial. E allora sì signori oggi patatine del Gundam Aerial per chi di voi ha una passione per i robottoni tipo ovviamente questo per chi di voi ama le giovani fanciulle tipo Suletta Mercury questa bene non può farsi mancare le patatine del Gundam. Una novità trovata ovviamente da poco grazie a Michele Diakiba Merch una novità sicuramente gustosa nulla di trascendentale sia ben chiaro patatine normalissime se non che sono fatte in quattro strati avrete poi una foto di dettaglio non le apro qua adesso. La peculiarità è che c'è un QR code qui dietro che vi permetteva entro un tempo limite di poter avere accesso a un sito per avere delle decal particolari da mettere poi sui modelli della Bandai quindi questo era un joint venture con loro il problema che la spedizione dura talmente tanto tempo che una volta che sono arrivati qua in Italia la promo era scaduta quindi non abbiamo potuto utilizzarla. Che dire non ci resta che gioire con Suletta Mercury con il nostro Gundam Aerial mangiandoci ovviamente le meravigliose patatine del Gundam. Buon appetito a tutti e alla prossima Gianè, bye bye!